Ciao, allora, io volevo ringraziarvi che dici, fai video su YouTube e non fai un video di ringraziamenti su Facebook? Volevo ringraziarvi per l'altissimo numero di visualizzazioni sul sito soprattutto sull'ultimo articolo, ovviamente, che è quello che ha dato il via al boom di visualizzazioni sul mio sito sono state circa più di 2000 visualizzazioni over the weekend durante il weekend nel totale invece, nell'arco del mese, circa 4000 quindi comunque è un grande achievement è un grande raggiungimento per chi ovviamente ha un sito e ovviamente l'interesse è quello di arrivare alle persone che è diverso da quello di fare il video perché ovviamente con il video si passa se scrivi di merda non lo legge nessuno mentre invece con gli avvenimenti recenti anche se fai video di merda diventi famoso ora, tolta questa piccola critica perché questo video deve essere un video positivo che ispira fiducia che ringrazia quelli che hanno letto il sito e quelli che mi seguono voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno cliccato a mi piace alla mia nuova fanpage christelsacchini.com che di recente è stata cambiata perché prima il mio website era un po' così riflessivo un po', gli articoli sono belli però era un po' intorspettivo cosa che comunque farò anche nell'analisi dei capitoli della rubrica a letto con Londra ma almeno ci sarà un fattore comune che è la mia esperienza qua a Londra nell'arco degli ultimi dieci anni quello che vorrei specificare è che ovviamente ogni singolo articolo è in base ai sentimenti e le emozioni che avevo in quel determinato periodo ciò vuol dire che se il primo articolo io l'ho detto what was a theory about London cioè non vuol dire che nei successivi articoli invece le cose siano così positive esprimo tutto quello che è successo esprimerò quello che ho sentito ovviamente non mi farò influenzare da quale è la mia opinione ora ma cercherò di rappresentare al meglio quelli che erano i sentimenti in quel periodo detto questo volevo ringraziarvi ancora ovviamente questo non sarà un video nel quale parlerò per 12 minuti però sai com'è? metti una videocamera in fronte ad una persona che fa video e là ti ruba tutta la scena è un video solamente di ringraziamenti continuate a cliccare mi piace sulla pagina www whatever non mi ricordo cosa è che la metto qui giù e invece il sito è www.cristiansanchini.com cercherò di scrivere il secondo capitolo in settimana ovviamente non so il titolo perché io decido il titolo alla fine perché non lo so perché faccio così nient'altro tanti baci e abbracci e tante carezze ciao